nella lezione precedente abbiamo visto come creare un file handle e come gestire un flusso di dati ma dovete però sapere che il perl ci mette a disposizione ben 6 file handle di default per facilitarci la vita durante determinate operazioni quindi direi di iniziare questo video presentando subito questi file handle speciali buona visione quindi come abbiamo detto i file handle di default sono in totale 6 ovvero stdin che è una nostra vecchia conoscenza e come ormai ben sappiamo si occupa della gestione del canale di standard input poi c'è stdout che abbiamo scoperto nella lezione precedente e come abbiamo visto gestisce lo stream di output dopodiché troviamo stdr che fino ad ora non abbiamo mai calcolato più di tanto ma che tratteremo fra poco è il file handle che gestisce il canale di standard error successivamente troviamo argv che è anch'esso un file handle speciale che esegue il parsing degli argomenti successivamente li apre in input 1 ad 1 ed infine esegue lo shift sull'array speciale argv dopo argv troviamo argvout si tratta anch'esso di un file handle speciale punta al file corrente aperto in output quando si effettua la modifica in line di un file utilizzando il flag e non vi preoccupate che cercheremo di capire il suo funzionamento a breve infine abbiamo l'ultimo file handle ovvero il file handle data che ci permette di includere nei nostri programmi contenuti read only e di stamparli successivamente in output però prima di proseguire mostrandovi il funzionamento di argv, argvout e di data dobbiamo fermarci un attimo sul file handle stdr in quanto seppur facente parte degli standard stream quindi alla fine dei conti di rilevante importanza lo abbiamo sempre scansato come la peste stdr è quindi il file handle che si occupa dello standard error lo standard error è anch'esso uno stream di output e di solito viene utilizzato per stampare per l'appunto in output messaggi di errore o di diagnostica è inoltre importante sapere che di default condivide la solita destinazione di output con std out per assicurarsi che venga visualizzato dall'utente ma quindi come mai è stato reso indipendente da std out se poi a cose normali condivide la solita destinazione con quest'ultimo immaginiamo di avere uno script in esecuzione e di voler salvare su di un file tutti gli eventuali problemi che incontra durante le sue operazioni visualizzando a schermo solamente le attività andate a buon fine essendo lo stream stdr indipendente da std out possiamo redirigere l'output di stdr su una destinazione al nostro piacimento come ad esempio un file di testo separando così le informazioni trasmesse su due flussi se std out e stdr non fossero indipendenti fra loro questa operazione risulterebbe impossibile bene ora che sappiamo il perché dell'esistenza del file handle stdr passiamo alla pratica nell'esempio stampo tramite la funzione print la stringa ciao sullo stream di output utilizzando il file handle std out e la stringa errore sullo stream di errore utilizzando il file handle stdr quindi cosa succederà quando eseguiremo lo script riprendiamo in mano il nostro schema per vedere meglio come abbiamo detto std out e stdr condividono di default la solita destinazione di output quindi condividendo la solita destinazione di output le informazioni che si trovano sui due flussi verranno stampate insieme sulla solita destinazione quindi tornando al nostro esempio le stringhe ciao ed errore dove verranno stampate ovviamente nel nostro terminale eseguiamo lo script per conferma e come previsto abbiamo sia la stringa ciao inviata tramite std out sia la stringa errore inviata tramite stdr nel nostro terminale in quanto come abbiamo detto di default il flusso di output e il flusso di errore condividono la solita destinazione però come abbiamo detto lo scopo principale di stdr e del flusso di dati che gestisce è quello di separare l'output di un programma dai relativi messaggi di errore e di diagnostica in modo tale da dare la possibilità di manipolare l'output e di scegliere eventualmente cosa visualizzare e cosa invece scartare ma come si manipolano questi flussi di dati torniamo di nuovo sul nostro schema come avrete già notato ad ogni stream è assegnato un numero ed è proprio attraverso quel numero che andremo a manipolare e redirigere gli stream dovete sapere infatti che questi numeri hanno un nome e il loro nome è descrittore ad ogni stream è assegnato quindi un descrittore ovvero stdin ha come descrittore 0 stdout ha come descrittore 1 e stdr ha come descrittore 2 facendo riferimento ad un descrittore possiamo quindi manipolare il flusso di dati corrispondente ma come applicare tutto ciò ad un nostro script scopriamolo insieme quando si va a lanciare il nostro programma bisogna indicare il flusso di dati che vogliamo redirigere specificando inoltre la nuova destinazione di output nell'esempio indico tramite la combinazione 2 più parentesi angolare a destra di redirigere il flusso di errore sul file error.txt ovvero la nuova destinazione di output il numero 2 che ho utilizzato durante l'esecuzione dello script indica il descrittore di stdr mentre la parentesi angolare fa riferimento al tipo di stream in questo caso la parentesi angolare a destra indica uno stream di output quindi tirando la linea quando eseguiremo lo script tutto ciò che si troverà su stdr verrà stampato nella destinazione indicata ovvero error.txt anziché nel terminale ma torniamo al nostro esempio ed eseguiamo lo script come potete vedere nel terminale compare solamente la stringa ciao che si trovava su stdout mentre nella stringa errore che viaggiava su stdr nessuna traccia però se guardiamo nella directory troviamo un file chiamato error.txt ovvero la destinazione che abbiamo definito come output per il canale di errore e al suo interno troviamo per l'appunto la stringa errore che viaggiava sul canale di stdr ovviamente così come è possibile redirigere il flusso stdr è possibile redirigere pure il flusso stdout nell'esempio ho sostituito il descrittore 2 che come abbiamo visto corrisponde allo stream stdr con il descrittore 1 che corrisponde invece al flusso stdout indicando come destinazione il file output.txt quindi indicando il descrittore 1 corrispondente al flusso di output andremo a redirigere il canale stdout sul file output.txt e nel nostro terminale verrà stampato solamente ciò che si trova nel flusso stdr ma torniamo al nostro esempio ed eseguiamo il tutto come previsto abbiamo nel nostro terminale solamente la stringa errore che viaggiava sul canale stdr mentre la stringa ciao che viaggiava su stdout è stata deviata sul file output.txt vi ho preparato questo semplice esempio per mostrarvi con ancora più precisione il funzionamento deflussi output e deflussi error nello script definisco un ciclo for e al suo interno creo la variabile lessicale i che utilizzeremo come variabile contatore dopodiché utilizzo una struttura if else che effettua un controllo sulla variabile i ovvero se il modulo 2d è uguale a 0 quindi se il resto di i diviso 2 è uguale a 0 stampa i sul canale stdout altrimenti se il modulo 2d è diverso da 0 stampa i sul canale stdr quindi cosa fa questo script ad ogni ripetizione del ciclo for controlla la variabile contatore i e se la variabile i è un numero pari stampa i sul canale di output se invece la variabile i è un numero dispari stampa i utilizzando il canale stdr bene a questo punto supponiamo di voler stampare solamente i numeri pari in output e di voler salvare invece quelli dispari su di un file come facciamo molto semplice al momento del lancio dello script il flusso avente descrittore 2 quindi il flusso collegato a stdr ovvero lo standard error verrà deviato sul file dispari e seguiamo lo script ed ecco qua in output abbiamo i numeri pari da 0 a 9 mentre sul file dispari troviamo per l'appunto i numeri dispari da 0 a 9 solito discorso se vogliamo stampare in output solamente i numeri dispari e salvare su un file quelli pari basterà sostituire il descrittore 2 con il descrittore relativo ad std out quindi con il descrittore 1 per chiarezza ho cambiato anche il nome della destinazione da dispari a pari bene rieseguiamo il tutto e in output vengono stampati come previsto solamente i numeri dispari mentre sul file pari troviamo per l'appunto tutti i numeri pari infine cosa succede quindi se eseguiamo lo script senza manipolare i flussi di output ed error come abbiamo detto std out e stdr condividono di default la solita destinazione di output quindi se non vengono modificati essi vengono stampati insieme sulla solita destinazione quindi eseguendo lo script abbiamo in output tutti i numeri sia dispari che pari da 0 a 9 nel nostro terminale in quanto nessuno dei due flussi è stato modificato avevo in programma di mostrarvi pure i felendol argv argvout e data ma l'argomento stdr barra standard error ha portato via più tempo del previsto quindi rimanderemo il tutto al video successivo per qualsiasi dubbio domanda o chiarimento vi invito come al solito a lasciare un commento alla prossima